Bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Fumetti e nella rubrica dedicata a Samo Esterna. Oggi parliamo insieme di Samo Esterna numero 49 dal titolo Madison. Sigla. Samo Esterna numero 49, Madison, di Massimiliano Filadoro, Marco Savegnago e Gianmarco Fumasoli. Con disegni eccelsi, se posso dire, di Chiara Accolli. Copertina, come sempre, dei piccioni di Vincenzo e Tanzillo e lettering di Paolo Altibrandi. Scusate se non lo dico in ogni numero, mi scoccia davvero tanto non dirlo in ogni numero, però ogni tanto mi viene in mente di dire queste cose, specialmente sui disegnatori che si intercambiano lungo i numeri. Mentre per questi 12 numeri, ora siamo al quarto numero della saga dell'Apocalisse, presumibilmente saranno tutti iscritti dalla Sacra Trinità o dalla Dannata Trinità Fumasoli, Filadoro e Savegnago. In questo caso ci ho tenuto particolarmente a nominare la disegnatrice perché ho apprezzato particolarmente l'alternanza dello stile di disegno, tant'è che sono andato a vedere appunto se ci sono stati due disegnatori per questo numero, mentre in realtà era tutt'opera di una sola disegnatrice e se posso permettere una critica appunto alla casa editrice, alla Bugs Comics, vorrei che vengano risaltati di più i disegnatori, non dico in ogni numero, però quando c'è, so che poi magari quando non lo si fa pare brutto, però quando c'è qualcosa di particolare, di evidentemente particolare come in questo caso, mi piacerebbe che venga dato molto credito ai disegnatori. Qui Chiara Accolli ha fatto un lavoro egregio alternando uno stile di disegno tipicamente da fumetto, anche molto stilizzato perché se andiamo a vedere per esempio il personaggio che vediamo nel regno è molto più squadrato in questo numero, ha alternato questo stile molto fumettistico a uno stile, non dico pittorico, ma molto acquarellato per i flashback. In un mondo di bonelli di dove i flashback sono semplicemente contornati da delle vignette arrotondate, questo stile che è tra il sogno e il flashback, non è un vero flashback, ma si va tra il sogno, l'incubo che dir si voglia, e il ricordo, ha veicolato molto meglio il viaggio che Samuel Stern stava compiendo e quindi innanzitutto complimenti a come è stato messo insieme questo fumetto. Poi, a livello di sceneggiatura invece vorrei dire un paio di cosette perché questo numero mi è piaciuto davvero tanto e so che sembro stupito nel dirlo e lo sono e adesso vado a spiegarvi perché. Prima però vorrei che, se ancora non l'avete fatto, minchia sono 4 anni che ho il canale ragazzi e ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video o un non mi piace e anche a tutti gli altri, che ve frega voi fatelo, di condividere il video con tutte le persone che amano Samuel Stern o che hanno amato questo numero Madison e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo video, di questo numero. Ora, tornando a noi. Per quanto riguarda invece la sceneggiatura, come ho lasciato intendere pochi secondi fa, sono molto stupito perché ormai io mi sono abituato che i numeri molto verticali di Samuel Stern possono avere un messaggio sociale, un messaggio di attualità, un messaggio morale, se vogliamo dirlo in questo modo, che ormai la parola morale ha avuto delle connotazioni anche negative, però un messaggio sociale. Mentre i numeri molto orizzontali, come in questo caso che si parla della saga dell'Apocalisse, che sono solitamente quelli trattati dalla Sacra Trinità, Filadoro, Saveniago e Fumasoli, sono molto interessanti dal punto di vista della trama orizzontale di quello che si va a scoprire di Samuel Stern, ma però a livello di segno che ti lasciano, di cose che ti fanno pensare quando hai finito di leggere il numero o durante, non ho mai trovato grossi temi, perché appunto ci si doveva occupare della trama orizzontale. Questo è forse il primo numero di Samuel Stern, dove vedo un fantastico connubio delle due cose. Un numero che scorre perfettamente in quello che è il viaggio che sta compiendo Samuel, ma che allo stesso tempo riesce a arricchire di significato tutto quanto venga detto in questo numero. Non so se è una sovralettura che sto dando io, o se è davvero così, fatto sta che, come direbbe Angus, le forze dell'universo si sono congiunte per fare in modo che questo numero mi trasmettesse, spero anche a voi, un fantastico messaggio. In questo numero si parlano di cose che forse erano ovvie fin da molti numeri, ovvero che Samuel non può fare quello che fa e non può aver vissuto quello che ha vissuto con tutto quello che ci hanno mostrato della mitologia sterniana senza avere un demone lui stesso dentro di sé. Cavoli, c'è la padre Duncan? L'ho avuto padre Duncan? Vuoi che non ce l'abbia Samuel? E qua i dubbi sono assolutamente stati fugati. Samuel Stern ha un demone dentro di sé. Già nel numero scorso ce l'hanno fatto capire. ha un demone, è stato già esternato in passato, è stato ributtato dentro in qualche modo, scopriremo come, penso, alla fine di questo ciclo. E quello che riesce a fare, lo riesce a fare anche proprio perché ha questa ombra dentro di sé. E questa cosa stava diventando ovvia ormai da parecchi numeri. Il contraltare di questa ovvietà è la scoperta su quello che era in realtà Madison ed è stata la scoperta forse più piacevole di tutto il numero dal punto di vista della trama orizzontale della mitologia sterniana. Ma ci hanno guidato in questo numero, cioè non è stato un fulmine a ciel sereno perché quando noi finalmente vediamo le ali su Madison o qualche vignetta prima quando vediamo che Madison con il fuoco sacro sta mondando quell'indemoniato dal fare del male e già lì si capisce che era una posseduta angelica. Quando noi vediamo questa cosa ci rendiamo conto che tutto quello che abbiamo letto in questo numero nelle pagine precedenti è stato tutto un portarci a questa verità. Ovvero il fatto che la parte migliore dell'anima di Samuel Stern fosse proprio l'anima di Madison. Ed è così naturale quando si arriva alla conclusione di questo numero capire che la parte migliore di quest'uomo sia proprio il suo angelo. È stato molto molto bello anche perché Samuel e Madison erano davvero una coppia molto tenera, molto carina da leggere. È stato molto bello. Mi ci sono anche rispecchiato parecchio in alcuni punti nel vedere il loro rapporto così carino, così scherzoso, così spiritoso. anche si prendono in giro sono complici, sono amici oltre che amanti ed è molto molto bello. La cosa che mi ha colpito di più a livello invece appunto come dicevo del messaggio che ha voluto mandare questo numero o che magari ha inconsapevolmente mandato questo numero sono tutti i dubbi che hanno percorso Samuel Stern nel rapporto con Madison. vediamo appunto anche quando sta per avere una bambina ha tutti i dubbi che dicono io ho paura ho paura di sposarla è qualcosa che va oltre la normalità io sento qualcosa dentro ho paura di farle del male e c'è un fantastico discorso di Angus che dice appunto che ogni uomo dentro di sé ha qualcosa ha un'ombra ogni persona non per forza i posseduti anche nel mondo reale hanno ombra e luce dentro di sé so che sembra una retorica banale sembra quella finta frase indiana finta storia indiana sui due lupi però fondamentalmente quello che dice Angus a Samuel è molto rassicurante dice che è poi quello che viene rinforzato dal discorso di Madison ogni uomo ha un'ombra dentro di sé e ha della luce non bisogna essere pasto di quest'ombra non per forza perché sia un'ombra si deve essere convinti che quest'ombra ci sovrasti un giorno è proprio il fatto che ci vengono dei dubbi il fatto che noi ci preoccupiamo che fa in modo che noi non veniamo sovrastati da quest'ombra e purtroppo io leggendo questo numero sono stato molto diciamo trasportato anche a quello che è successo e che succede da anni con i fatti di cronaca sull'ultimo femminicidio che c'è stato l'ultimo in realtà non è neanche l'ultimo ma su quello che ha sconvolto di più il paese in questi giorni e che forse 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 sta per la prima volta dando un messaggio e una lezione al nostro paese ho proprio notato non lo so la differenza tra un uomo come Samuel che so che è finto che è scritto però è frutto di persone reali un uomo come Samuel che ama tantissimo Madison e che si pone dubbi sul loro rapporto che ha paura di farle del male con la sua essere con la sua persona e sono proprio questi dubbi a salvarlo sono proprio questi dubbi a far di lui un uomo e magari persone reali che sono fuori nella vita reale che invece dubbi non se ne sono mai posti anzi hanno sempre avuto la certezza di possedere l'altra persona e questa cosa questo raffronto che facevo nella mia testa mentre leggevo è stato molto molto forte ammetto che ho avuto molta paura che gli sceneggiatori prendessero una via per spiegare la morte di Madison che non mi avrebbe mai fatto perdonare Samuel ovvero io temevo molto che ci avessero mostrato che Angus ha riscritto perché c'è anche questa cosa da dire Angus ha il potere di riscrivere la realtà dei fatti io temevo che ci parlassero che Angus avesse riscritto la storia di Samuel perché Samuel posseduto avesse ucciso Madison e questa cosa non me l'avrebbe mai fatto perdonare Samuel perché si rischiava davvero di parlare per allegoria del famoso raptus di omicida raptus di follia che si usava tempo addietro per giustificare un'azione lucida di di possesso estremo della propria compagna invece fortunatamente no mentre leggevo ho detto Dio fa che non ci sia questa cosa del demone che perché veramente non è proprio aria e invece no e invece no vediamo che abbiamo scoperto appunto che Madison è un angelo che Madison è la parte migliore è stata la parte migliore di di Samuel Stern e che nel tentare appunto di di mondare i peccati di questo altro indemoniato che voleva l'anima di Samuel perché non erano non erano lì per caso volevano separare Samuel da Madison proprio perché Madison lo teneva vicino alla luce e proprio mentre succedeva questo è partito davvero un colpo di pistola come abbiamo visto nel numero 16 ma non era assolutamente casuale quello che che è successo è partito un colpo di pistola da non da Samuel ma ovviamente da uno di questi posseduti che voleva appunto che era lì probabilmente proprio per fare questo per fare in modo che Samuel stesse da solo proprio perché ci sono delle forze che vogliono Samuel al servizio della dell'informe al servizio dei demoni al servizio dell'ombra fatto sta che è stato questo a provocare la morte di Madison e sono molto più felice che sia stato qualcosa di che abbia a che fare con la mitologia sterniana e appunto non un caso io non so se questa cosa che non ero soddisfatto di quello della morte di Madison nel numero 16 il processo stern e che secondo me era un ricordo fittizio non so se questa cosa che io dissi all'epoca fu condivisa da altri recensori e che magari abbia fatto aggiustare il tiro alla Bugs perché comunque è una casa editrice molto alla mano con cui si può dialogare e che quindi abbia raccolto il nostro grido e abbia e abbia modificato quello che è successo a Madison oppure se era un piano architettato fin dall'inizio per depistarci nel numero 16 per darci un contentino per poi parlare di quello che è successo davvero adesso quando siamo pronti nel numero 49 a un numero solo dal numero 50 complimenti tra parentesi per questo traguardo e non so qual è la verità il fatto sta che sono molto felice che sia stato aggiustato il tiro e che quello che è successo alla moglie di Samuel Madison sia appunto legato al sovrannaturale e legato più di quanto sperassi perché non pensavo assolutamente che Madison fosse una posseduta angelica e questa cosa mi ha mi ha fatto davvero piacere sempre alla luce di quello che ho letto nelle pagine precedenti vorrei che non vi sfugga una cosa vorrei che non vi sfugga che se Madison era una posseduta angelica e Samuel è un posseduto demoniaco Lily è qualcosa di straordinario Lily è figlia di queste due forze e sicuramente fa molto gola come retto Madison a tutte le forze che sono in ballo per l'apocalisse quindi io credo che Lily sarà un personaggio molto importante non so se sarà molto importante a livello narrativo ovvero che magari vedremo molto o che continueremo a vedere poco ma a livello totemico ecco diciamo a livello di rappresentazione sarà una sorta di nuovo messias o una sorta di nuovo anticristo chi lo sa perché unirà le due nuove specie la specie angelica è la specie demoniaca secondo me Lily sarà qualcosa di mai visto prima e ci porterà nella storia dopo la saga dell'apocalisse magari mi sbaglio ma secondo me lì ci saranno nuovi scenari dati proprio da questa da questa unione e infine così mi allaccio anche alla copertina del prossimo numero la storia di Angus è già ormai un paio di numeri che abbiamo capito che Angus ha dei poteri ma perché ha questi poteri in questo mondo dove le persone sovrannaturali non è che sono proprio all'ordine del giorno ci sono i posseduti demoniaci angelici che siano sì ok ci sono le streghe ma Angus che cos'è perché ha questo potere è un giustraio dell'apocalisse anche lui riesce a veicolare l'apocalisse penso che nel prossimo numero questa cosa verrà approfondita perché il prossimo numero si chiama il cavallo bianco e mentre inizialmente ho pensato che si parlasse ancora di cranna mi è venuto invece in mente che i cavalli dell'apocalisse e i cavalieri sono quattro e che i cavalli hanno dei diversi colori il cavallo nero era quello di Foster il cavallo bianco presumibilmente sarà quello di Angus perché si vede in copertina insieme a Samuel quindi mi aspetto anche lungo il corso di questo ciclo dell'apocalisse di avere un numero che si chiama il cavallo rosso e un numero che si chiama il cavallo verde che dovrebbero essere i quattro colori dei cavalli dell'apocalisse sto andando a memoria quindi potrei sbagliarmi correggetemi se sbaglio fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero io l'ho adorato l'ho adorato al punto che lo voglio rileggere con molta calma l'ho letto in treno ma lo rileggerò sicuramente soprattutto che credo sia la cosa migliore per un fumetto da edicola ho voglia di farlo reggere ad altre persone quindi credo che sia un fantastico traguardo per un fumetto quando si raggiunge questa voglia nei lettori di diffonderlo scrivetemi voi cosa ne pensate qui sotto io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video e se nel caso questo è l'ultimo video che vedete prima di Natale buone feste buon Natale e ci vediamo l'anno prossimo arrivederci e ci vediamo